E anche oggi partiamo per una ciaspolata meravigliosa Sulla neve fresca, è nevicato tutta notte, giornata di sole meravigliosa, temperatura meno 8 si sta divinamente farinosa Tra pochi istanti siamo a capanna Cervino Ecco, 2080 metri la quota raggiunta fino ad ora e si sale pian pianino Eh sì, parlano i video e le foto, cioè io più di dire bellissimo, dopo non ho altre parole Questa è fantastico Abbiamo pensato di cambiare direzione, salire in senso orario Quindi cambiamo il percorso e a cima Castellazze sono circa 844 metri Grazie a tutti 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 E oggi si vede una piccola punta del Focobon, il gruppo del Focomo Che è un 3050 3060 Ecco la croce, guarda, che si vede Arrivati al famoso Cristo Pensante del Castellazzo. Arrivati al 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 Castellazzo. E' uno spettacolo. E' uno spettacolo. Arrivati al Castellazzo. Arrivati al Castellazzo. Ecco, stiamo rientrando. Marco sempre dietro alle spalle. Stiamo al punto a Divio, dove praticamente c'è il sentiero che porta a Rolle. Eccoci qua, siamo arrivati ormai alla macchina. Manca 200 metri. Giornata trepitosa. Il tempo ha retto. Sta cambiando. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.